il primo che abbiamo trovato non ho idea che cos'è sto simpatico mi o ha cambiato idea no mi sa che viene con te porco dio se viene ormai lo faccio fuori perché scusa che è successo ma perché ci sono quel capo di umbrelli di merda allora capisci quanto sono fuori di testa io sai che domanda stavo per farti hai l'ombrello della victoria quando abbiamo appena fatto 5 vittoria fatto fatto no dov'è uno qua davanti a me aspetta che lo faccio fuori fatto si si guarda un po' un po' un po' oh andiamo dove andiamo tieni che non posso dare i cilini tieni te l'ho dato fatto eh lancia tieni lo tieni senti senti la gente gente di vero aspetta eh ma no ma non buildare ma proprio faccio entrare oddio come sto laggando oh guarda questo qua ti è sopra io lo sto seguendo gli sto sparando ha poca vita guardate non ha molta vita per che cazzo è andato hai avuto giù start ma cosa fai? mi sono dato un busto con i ragazzi ma c'è gente qua qua? terra no scappa scappa non ce la fai non ce la fai se no oh non ce la facciamo se no vieni vai 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 tranquillo ho le bende io e ce n'è anche questo qua ci si può correre in acqua? io sono morto speriamo che non ci sia nessuno perché se no sono morto che dici provo a giocare in portatile? no 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 eh? ma di che ti mi serviva? no ma sai con cosa ti sto parlando? io ti sto parlando con una frenuglia da un metro di cap... no da uno e mezzo di cable jack bene che arrivo qui la frenuglia che non fa questo? no ma tranquillo vedi che ti do il film non c'è mica... ma questo qui dov'è? ma che figlio di puttana... è un nome di materiali per questo non è ancora un altro si bene ci sono persone normali poi ci sei tu che hai 9 e 9 di tutto no tu dici? avrei mai detto eh? no dai mi hai... non ci credo un risultato un risultato un risultato ora sulla tua fàmara fr karena un risultato anche con le vele un risultato adesso siamo no datro e anche con le vele adesso siamo qui Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti